ciao buonasera i segreti del talk perfetto questo incontro questa masterclass potrebbe durare tre giorni o durare anche solo un minuto adesso ti dico la versione da un minuto poi però andiamo in quella lunga in quella che dura un'oretta questa oretta che passeremo insieme se ci stai ascoltando dal vivo verso la fine negli ultimi 20 minuti avremo anche la possibilità di dialogare di fare di fare delle domande dicevamo il talk perfetto può questa masterclass durare un minuto in cui ti dico che il talk perfetto non esiste oppure che il talk perfetto è quello che ti sta perfettamente addosso quello che ti senti essere il talk che ti rappresenta nel quale stai bene nel quale riesce a dire esattamente le cose che vuoi dire e le persone che l'ascoltano le capiscono perché è quello forse non tutti si ricordano che un talk uno speech un monologo un discorso è finalizzato a trasferire un contenuto e la questione è questa esamineremo quelli che sono i li abbiamo chiamati segreti quelli che sono un po di trucchi un po di accortezze da tenere presente quando si affronta un un discorso per discorso per talk intendiamo parlare di fronte a parecchie persone in una situazione in cui tu hai la parola e le persone si aspettano che tu stia per parlare per cui non parliamo delle riunioni non parliamo dei meeting che devi gestire in ufficio non parliamo neanche dell'interroga dell'esame all'università o dell'interrogazione a scuola cosa intendiamo per tante persone questo è totalmente soggettivo direi che ci diamo un range tra le 15 e le 1500 persone 2000 persone non è la stessa cosa tra 15 e 2000 persone ma ci serve a delimitare cosa intendiamo noi per discorso per talk un'altra caratteristica del talk è che non succede all'improvviso lo sapevi prima hai un appuntamento hai un convegno a cui devi parlare hai un tempo breve o lungo che sia per prepararti per cui in questa categoria non capita il l'improvvisazione del mi son trovato lì e ho dovuto parlare per 20 minuti per dire per dire una cosa non diamo troppa come dire non diamo troppe regole rispetto alla durata cosa intendiamo per talk tutti sanno che il tetto dura meno di 18 minuti diciamo che siamo sopra i cinque minuti e sotto la lezione universitaria da 45 per cui per discorso intendiamo quello non siamo a quei non stiamo parlando di quei discorsi che durano due ore perché magari siamo tenuti a parlare per due ore consecutive allora tutto questo ci è servito per delimitare la zona di cui di cui parliamo i segreti di un talk perfetto dove per talk intendiamo qualcosa che prepara che abbiamo tempo di preparare un qualcosa che ha una durata limitata un qualcosa in cui la gente si aspetta che noi parliamo un qualcosa in cui noi siamo di fronte a delle persone che ci stanno per ascoltare dividiamo la disciplina del parlare in pubblico perché di questo si tratta in quattro zone e proviamo a trovare un segreto almeno per ognuna di queste di queste zone quali sono queste zone verbale non verbale questo ti è già venuto in mente è immediato nel momento in cui nomina il verbale la terza zona è il pre verbale e ne abbiamo una quarta che metteremo qua che nomineremo come tutto il resto quando io parlo a un pubblico ho una dimensione verbale una dimensione non verbale una dimensione pre verbale e poi c'è tutto il resto partiamo da tutto il resto cosa intendiamo per tutto il resto dove sono qual è il panel nel quale sono inserito qual è l'ambiente dove avviene il mio discorso quante sono le persone quelli bravi dicono il setting quali sono le dotazioni tecniche sto parlando a un microfono o un microfono come questo che vedi adesso appeso alla mia maglia oppure o quello che viene normalmente detto un gelato o uno schermo ho delle slide delle immagini che accompagnano il mio discorso le posso avere le devo avere in alcuni contesti è obbligatorio avere quante persone ho davanti qual è l'illuminazione quante persone parlano prima di me se ci sono delle persone che parlano prima di me quante ne parleranno dopo più o meno che ora è che temperatura c'è tutto questo voi direte cosa c'entra io sto voglio il segreto per il mio discorso perfetto il tuo discorso perfetto non è solo quello che ti sta bene addosso ma è quello che sta bene addosso anche al luogo dove si fa qual è il segreto quando parliamo di tutto il resto quello che io assolutamente consiglio vivamente sapere 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 informarsi 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 non è la stessa cosa a fare un discorso con un microfono in mano o fare un discorso in cui tu hai tutte e due le mani libere allora capisci perché siamo partiti da tutto il resto una volta che io so tutto quello che posso sapere di dove sarà di come sarà di quali saranno le condizioni gli obblighi e le possibilità del mio discorso solo allora posso iniziare a prepararlo quindi il consiglio nel momento in cui ti invitano nel momento in cui organizzi un evento nel quale tu dovrai parlare informati decidi capisci tutte ripeto tutti i limiti e tutte le possibilità e a quel punto sai dove ti andrai a muovere chiaramente trattandosi di comunicazione è importante anche laddove fosse possibile sapere chi sono le persone con le quali andiamo a parlare più o meno qual è il target come come si dice qual è l'età media qual è la provenienza qual è il quello che cercano in quel in quel contesto lì sono persone invitate personalmente ad un convegno specializzato ecco il tuo discorso potrà essere preparato a partire da queste notizie in più chiaramente sfattiamo un mito non si può sapere tutto pensare che la comunicazione sia un qualche cosa che tu controlli al cento per cento è totalmente utopistico sappiamo che nella comunicazione nella comunicazione dal vivo in particolare ci sono delle cose che puoi conoscere delle cose che non puoi conoscere l'invito è quelle che puoi conoscere conoscile il più possibile informati il più possibile su dove andrai a tenere quel discorso c'è il caso che il tuo discorso lo debba fare in più occasioni a volte capita in occasioni diverse in luoghi diversi è velleitario pensare che una volta preparato lo puoi mettere così com'è in posti diversi dovrai riscriverne dei pezzi dovrai riadattare dei pezzi se cambiano le condizioni banalmente cambia il tuo discorso se alle nove del mattino e la seconda volta che lo devi fare è alle sei del pomeriggio dovrai trovare il modo di adattarlo dovrai in fase di preparazione in fase di scrittura trovare il modo che sia migliore secondo te per le condizioni che tu conosci e siamo partiti da tutto il resto adesso andiamo nelle altre tre zone dicevamo verbale non verbale preverbale naturalmente è interessante partire dal verbale dopo aver scoperto il tutto il resto lo ricordo il verbale è tutto ciò che afferisce alla alla parola è per molti il discorso andiamo a scoprire che non è il discorso la parola la parola è un pezzo del discorso gli altri li abbiamo già gli altri pezzi li abbiamo nominati c'è qualcuno anche che confonde la parola con il contenuto attenzione questo è un errore il contenuto è quello che è dentro di te che tu vuoi trasferire le parole che userai per trasferire quel contenuto lì sono frutto di una scelta se ti racconti che non le stai scegliendo è un racconto che ti fai le stai scegliendo ma lo fai in maniera inconsapevole allora stando nel verbale non andiamo a indagare tutti i trucchi di come si scrive un discorso proviamo a identificarne un paio un paio di segreti di come costruire il tuo discorso perfetto il tuo talk perfetto il primo segreto è informarsi andare a vedere tanti discorsi quali sono i discorsi che ti piacciono quali sono i discorsi che ti hanno colpito che cos'è che ti colpisce solitamente nei discorsi a quel punto lo fai tuo quando intuisci che cos'è che ti colpisce che cos'è che tocca le tue corde vai a prenderlo e vai a farlo ma una delle attenzioni che assolutamente è importante fare quando si scrive un discorso è come apri e come chiudi decidere scrivere provare e fare in modo che sia molto preciso l'inizio e la fine del tuo discorso è fondamentale perché non abbiamo parlato dell'audience tanto prima nel concetto di talk diamo per scontato che le persone il pubblico mediamente non ci conoscano ci vedano per la prima volta magari sono attirate dall'argomento magari sono tirate dalla nostra fama perché siamo delle persone famose ok ma ci stanno vedendo lì e approcciano al nostro discorso per la prima volta iniziare in maniera incisiva è fondamentale perché perché nei primi minuti addirittura c'è chi dice nei primi secondi io valuto se merita ascoltarti allora non puoi non dedicare tempo all'inizio del tuo discorso e contrariamente a quello che si pensa non è la prima cosa da scrivere molte persone suggeriscono di scrivere l'inizio del discorso solo quando il tuo discorso è già tutto scritto è già chiaro sai perfettamente dove vai a parare come lo costruisci allora vai lì a scrivere un inizio forte un inizio che magari costituisce una sfida un inizio che magari è una domanda la domanda attiva sempre pensa fortemente all'inizio e all'inizio del tuo discorso e nello stesso modo vai a costruire il finale questo è il segreto per il tuo talk peggiore il finale slavato il finale che non si capisce che stai finendo il finale che dici dieci volte finendo concludendo aggiungo ancora una cosa sto per finire tutte queste cose qua non fanno che ammazzare l'attenzione di chi ti sta ascoltando allora esattamente come con precisione vai a definire l'inizio del tuo discorso il mio consiglio è di andare a definire il finale che sia un finale chiaro netto un finale che trasferisce un significato se il tuo discorso è un regalo che fai alle persone il finale è il pacco il pacchetto come vai a mettere il fiocco finale e cosa serve il pacchetto serve a dare a consegnare il regalo e soprattutto è l'ultima cosa che la gente ricorda e quindi se sei andato a finire mi viene da fare questo gesto no incalando abbassando magari la voce andando a bofunchiare delle cose magari anche un ringraziamento a chi ti ha invitato è il modo peggiore per finirlo ultimo segreto sulla questione verbale sulla questione parole ci pensiamo poco ai pronomi quando scrivi un discorso andrai a usare dei sostantivi andrai a usare degli aggettivi dei verbi tutto il campionario dell'analisi grammaticale della lingua nella quale nella quale scrivi della con la quale parli fai attenzione ai pronomi non è la stessa cosa usare io usare noi usare voi usare tu io ho scelto in questa masterclass di usare il tu mi sembrava più interessante per te vedere dalla dallo schermo qualcuno che dice tu è una scelta non sto suggerendo di usare un pronome anziché l'altro sto suggerendo di fare attenzione perché a seconda del pubblico a seconda del mezzo a seconda di quello che vuoi dire può essere interessante usare dei pronomi personali diversi e passare magari in in momenti diversi dal voi al noi per coinvolgere per metterti insieme a chi ti sta ascoltando se usi il noi oppure per invitare un voi molto forte magari non accusatorio aprerei proprio tanto il ragionamento sui pronomi che forse non è proprio la prima cosa che ci viene in mente quando andiamo a scrivere un discorso per passare dal verbale allora abbiamo fatto tutto il resto abbiamo fatto il abbiamo ragionato sui segreti del verbale per andare negli altri due quadranti di questo di questo schema che abbiamo che abbiamo disegnato insieme diciamo ancora una cosa sullo scrivere scrivere un discorso è diverso dallo scrivere qualche cosa che verrà letto da qualcun altro è diverso dallo scrivere un romanzo è diverso da scrivere il teatro è diverso da scrivere una mail è diverso da scrivere un messaggio di whatsapp perché cambia la modalità di fruizione di chi ti sta ascoltando se tu scrivi qualcosa che il tuo pubblico dovrà leggere avrà una fruizione innanzitutto asincrona non sarai tu lì a dirgli quella cosa lì e avrà una fruizione in un ambiente che tu non controlli e avrà una fruizione attraverso gli occhi e cosa succede quando leggiamo un testo succede che automaticamente noi andiamo a leggerlo e rileggerlo se c'è qualcosa di non chiaro andiamo a leggerlo e rileggere la singola parola andiamo a decidere noi mentre leggiamo la velocità di fruizione di quel testo quando sei tu a parlare la velocità di chi ti ascolta la velocità chi ti ascolta non la decide la decidi tu allora a livello di scrittura devi fare attenzione di per permettere alle persone di stare dietro al tuo parlare naturalmente se stiamo parlando di un video e dico qualcosa che non funziona passi a un altro video oppure torni indietro se non si è capito ma se siamo dal vivo capiamo bene che questa possibilità chi ci ascolta non ce l'ha allora la scrittura dovrà tenere conto di questo molto spesso ti è capitato di sentire qualcuno che dici parla come un libro stampato e di solito non è un complimento parla strano parla freddo parla un po costruito queste sono le persone che a livello di scrittura del discorso si dimenticano che poi quella cosa lì andava detta e pensano di scrivere un qualcosa che andrà letto da qualcuno allora nel fare attenzione a questo passiamo agli altri due quadranti perché perché non sono solo le parole che parlano perché nel momento in cui sei in un discorso dal vivo ci sono gli altri pezzi di te che parlano e passiamo dal far sentire con le orecchie e con la mente le parole che tu hai preparato passiamo al che cosa il tuo corpo che cosa i tuoi gesti fanno vedere alle persone entriamo nel non verbale il non verbale è tutto ciò che afferisce se prima eravamo sulle orecchie tutto ciò che afferisce agli occhi vedi qui quanto è importante sapere cos'era tutto il resto nel non verbale devo sapere dove sono devo sapere quali possibilità ho di movimento sarò seduto durante il mio discorso sarò dietro a un tavolo sarò in piedi davanti a un leggio posso uscire dal leggio oppure ci sono delle telecamere e delle luci che non mi consentono di fare dei passi perché tutte queste notizie perché il segreto è anche i gesti pensali i gesti sono parte del tuo discorso i movimenti sono parte del tuo discorso i movimenti amplificano oppure boicottano il tuo atteggiamento fisico dice delle cose in accompagnamento come dicevamo prima in amplificazione oppure a detrimento del messaggio che stai dando allora vale la pena pensarlo anticipo una domanda che sicuramente a questo punto a qualcuno di noi sarà venuta in mente ma non rischiamo di essere finti a me piace quando parlo con le persone anche quando parlo ad un pubblico essere spontaneo sì ciò di cui stiamo parlando non è l'uccisione della spontaneità ma è l'aumento della consapevolezza se io so dove sono se io so che movimenti sto facendo e non mi lascio prendere magari dall'agitazione per cui mentre sono davanti a un pubblico inizio a grattarmi la testa infilarmi le dita nel naso o togliermi dei grumi che ho nelle orecchie perché stamattina non ho fatto in tempo a fare noccia è meglio questi sono gesti che abbiamo visto fare a mille persone spontaneamente ma che non aiutano il messaggio che al messaggio che vuoi dare fanno danno distraggono allora il consiglio è innanzitutto se il tuo dialogo se il tuo monologo se il tuo discorso è corto non fare passi quello che dico spesso alle persone che preparano dei dei talk insieme a me è non sei steve jobs stai fermo perché stai fermo perché stare fermo ti dà maggiore autorevolezza l'obiettivo non è non essere agitati a io cammino per scaricare la tensione l'obiettivo non è quello non è non essere agitati l'obiettivo è quella tensione di che una tensione sana che una tensione che ti fa arrivare alle persone incanalana incanalala incanalala poi fai degli esercizi di dizione per non impappinarti sulle parole difficili metti la tua tensione dentro un canale per trasferirla alle persone perché essere emozionati per stare davanti a un pubblico è un bel messaggio da dare io ci tengo a stare qui davanti a voi non devo la mia tensione mascherarla posso però usarla usarla perché il mio messaggio sia maggiormente efficace spero in questo modo di avere un po risolto la questione spontaneità verità finzione quando parliamo di un talk non parliamo di teatro il teatro è un attore che fa finta di essere un personaggio nel talk sei tu l'invito è conosci tutti quelli che sono i tuoi canali comunicativi conosci la lingua che stai usando a nessuno verrebbe in mente di dire ma a me non vengono i congiuntivi io il discorso lo scrivo spontaneamente quei congiuntivi sbagliati ecco il tuo corpo è un canale di espressione è un canale di comunicazione è interessante conoscerlo è interessante sapere che cosa stai dicendo grattandoti il naso che cosa stai dicendo con le mani che non sai dove mettere che cosa stai dicendo facendo dei gesti molto ampi o dei gesti incomprensibili che cosa stai dicendo con i tuoi occhi che cosa stai dicendo con la tua espressione del viso allora perché non far entrare quella parte lì mi viene a dire proprio nella scrittura e l'ultimo segreto nel non verbale lo mettiamo rispetto a quello che si dice l'outfit noi non possiamo non comunicare tutto di noi comunica avere quel vestito anziché un altro se io so dove dove se io so il tutto il resto se io so dov'è che facciamo il nostro evento mi aiuta a scegliere a scegliere che cosa voglio dire anche col vestito soprattutto se stiamo parlando di persone che vediamo per la prima volta non perché ci siano dei pregiudizi non stiamo entrando nel è giusto o sbagliato ma partiamo dal fatto che noi con tutto il nostro atteggiamento diciamo delle cose ha senso scegliere che cosa dire ha senso la diciamo così essere consapevoli di quello che stai dicendo e di quello che stai dicendo non solo con le parole c'è uno studio che dice che fatto cento quello che io mi porto via da un qualsiasi discorso di qualcuno che sta parlando da un palco quello che mi porto via che dipende dalle parole che ha detto è solo il 30 per cento allora dico occupiamoci di quello che scriviamo scriviamolo bene il discorso ma occupiamoci anche del rimanente 70 per cento che diciamo perché lasciarlo all'inconsapevolezza non significa che non diremo niente significa che diremo delle cose che non sappiamo di dire di cui non siamo consapevoli e questo è un problema e il regno della non consapevolezza è questa quarta zona che andiamo adesso a esplorare che è il pre verbale faccio una piccola parentesi per dire che tra una decina di minuti saremo arrivati più o meno al quarantesimo minuto di questa masterclass sarà possibile iniziare a fare delle domande passeremo gli ultimi venti minuti di questa ora che passiamo insieme a dialogare se avete piacere se c'è qualcosa di quello che hai ascoltato che ti ti ha incuriosito e vuoi mettere sulla chat una domanda tra qualche minuto andremo a andremo a e andremo se sono capace andremo andremo a rispondere dicevamo il pre verbale che cos'è il pre verbale è tutto ciò che dice la mia voce prima di diventare parola la mia voce è un suono e come suono comunica comunica dicevamo prima di trasformarsi in parola e parliamo di due livelli un livello è quello facile è quello che ti è venuto in mente immediatamente l'espressione io posso dire la stessa cosa mettendoci un'intenzione e quindi una espressione diversa posso avere una voce sorridente posso avere una voce accogliente posso avere una voce infastidita arrabbiata e posso con quelle stesse voci dire buongiorno tu capirai che ti sto dicendo buongiorno augurandoti di avere una buona giornata o sto dicendo buongiorno sottolineando il fatto che sei arrivato con 20 minuti di ritardo e lo capisci anche se io con la parola ti ho detto solamente buongiorno pensate alla relazione che avete con i vostri amici migliori alzi il telefono e capisci subito se come sta l'altra persona se triste se questa questa è l'espressione e l'espressione può essere un disturbo se non ne ho consapevolezza molto spesso ci troviamo magari a dire con la voce delle cose diverse da quelle che stiamo dicendo con le parole allora avere consapevolezza di questo provare a trovare un'omogeneità o ad ampliare la ricchezza dei messaggi che do attraverso la parola controllando mettendoci la voce adeguata è importante ma andiamo a un livello un po più sottile a un livello un po più profondo la voce come suono addirittura prima di diventare espressione e qui abbiamo un problema abbiamo il problema che esattamente come il nostro viso se non con l'aiuto di uno specchio neanche la nostra voce la vediamo la voce che noi sentiamo la nostra voce che noi sentiamo non ha non arriva direttamente arriva direttamente dal nostro corpo e non arriva dall'aria quindi se proprio volessimo essere precisi diremmo che le altre persone non sentono la voce che sentiamo noi o la nostra voce quella che sentono gli altri non è quella che sentiamo noi e questo è un problema è un problema non sapere che suono sentono gli altri evidentemente se sei arrivato all'età che hai e stai parlando con le persone le persone non ti hanno insultato per la tua voce la tua voce non è brutta ma spesso ci capita di ascoltare magari un messaggio vocale che abbiamo mandato noi e non riconoscerla questa voce ma sono io perché perché quella voce lì è una voce è una voce diversa e sfatiamo un mito la voce non è un qualcosa sul quale non è possibile lavorare la voce la produce il tuo corpo la voce è un suono prodotto dalle corde vocali amplificate dai luoghi dove c'è più aria nel tuo corpo tipicamente la gola la maggior parte di noi usa la voce di gola cosiddetta ma in realtà tutto il nostro corpo è in grado di esprimere dei suoni di amplificare quella vibrazione fatta dalle corde vocali quella che usiamo poco e che sarebbe invece una cassa di risonanza meravigliosa è la cassa toracica lì ci sono i polmoni lì c'è tanta aria allora provare a usare quella voce lì potrebbe ampliare le possibilità di questo suono prodotto perché me ne devo occupare non sei obbligato a occupartene è una possibilità io ritengo e consiglio a tutti coloro che per mestiere o per motivi professionali devono spesso parlare in pubblico le persone di prendersi cura della propria voce perché perché la propria voce è un qualcosa che arriva agli altri è un modo per farci conoscere agli altri prima ancora delle parole delle voci ci si innamora dico una cosa forte la tua voce è identitaria esattamente come il tuo viso la voce la riconosci allora perché non occupartene perché ti occupi del tuo viso della lunghezza della tua barba se li hai dei tuoi capelli del trucco del modello di occhiali perché perché vuoi che il tuo viso assomigli a un'immagine di te stesso che che ti assomiglia che ti piace nella quale ti senti comodo ecco stessa cosa per un altro elemento identitario nostro la voce allora provare a sperimentare le diverse voci provare a sperimentare quali voci il mio corpo può produrre è sicuramente un modo per arrivare ad avere una comunicazione più efficace arrivare ad avere un talk ricordi cosa dicevamo all'inizio un talk che ti assomiglia un talk dentro il quale stai bene provando a riassumere perché siamo arrivati al intorno al quarantesimo minuto quali sono questi famosi segreti per il talk e quindi per chi ha voglia può iniziare a digitare delle domande se no occuperemo questo spazio provando ad andare un po' dentro gli argomenti che abbiamo che abbiamo trattato provando a fare un piccolo riassunto abbiamo detto verbale non verbale preverbale tutto il resto il segreto partendo da tutto il resto è conoscere il più possibile dove vado a finire chi avrò davanti qual è la posizione che ho quali sono le possibilità che ho qual è la tecnica che ho a disposizione posso devo usare slide eccetera 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 per cui il segreto di questo quadrante qui in basso è conoscenza il segreto nel verbale è inizio fine e attenzione ai pronomi questo è quello che proprio voglio 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 lasciare il segreto nel non verbale è sicuramente consapevolezza è sicuramente scelta scelgo prima se posso qualche gesto da fare scelgo prima se posso quali movimenti fare dove il mio corpo può essere importante per veicolare un messaggio nel preverbale invece il consiglio l'ho tenuto per ultimo apposta è prova a pensare all'evento dal vivo al momento in cui farà il tuo discorso come una gara come una performance come uno sport se fai uno sport sai che è inconcepibile provare a giocare provare a entrare in partita senza fare cosa senza riscaldarsi prima sai che se inizi a giocare senza riscaldarti hai due opzioni o giochi malissimo o rischi addirittura di farti male la voce è il tuo strumento quando vai a fare un discorso allora prenditi un tempo per riscaldarla per fare qualche vocalizzo per respirarci dentro la tua voce perché la voce dipende dal respiro tra l'altro ti accorgerai che questa cosa impatterà anche sulle tue emozioni impatterà sulla tua tensione allora ti metti lì ti concentri sulla tua voce e la riscaldi i bravi speaker prima di entrare in scena riscaldano la voce proprio come un atleta che prima di entrare in campo fa una corsetta fa lo stretching fa delle cose ed entra in campo ed entra in scena caldo questo è il trucco rispetto rispetto alla voce il discorso peggiore lo puoi fare se inizi appena sveglio senza aver detto una parola a nessuno lo sai benissimo come cambia la voce l'ultimo e poi andiamo a vedere se arrivano delle delle domande se hai tempo provalo 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 il tuo discorso passare dalla scrittura al dire passare da il testo scritto al provare a dirla la cosa che devi dire te la cambierà totalmente ti farà entrare più in possesso di quel discorso e ti farà capire sei fatto degli errori di scrittura questa è una cosina che mi piace dire spesso ah guarda Enrico ho imparato il discorso a memoria ma quella frase lì non mi riesce proprio di ricordarla cosa succede? l'hai scritta male e tu da qualche parte la tua mente il tuo cuore il tuo corpo la tua pancia si rifiuta di dirla quella frase lì l'hai scritta male prova a capire come ti può stare meglio in bocca quella frase prova a cambiarla fin quando uscirà più liscia dalla tua bocca e con questo chiudo saluto tutti voi vi ringrazio o ringrazio tornando al pronome uno per uno per aver seguito questa questa masterclass e proviamo a vedere se arrivano delle 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 domande vado a vedere nella chat non sembra ci siano delle delle domande vuol dire ok ti sei annoiato tantissimo e quindi adesso sei sulla chat di whatsapp e stai facendo altro oppure che è stato tutto incredibilmente chiaro sicuramente un un argomento che abbiamo toccato solo in parte è la relazione con la tensione è la relazione con l'emozione abbiamo toccato un po di di sfuggita durante durante la nostra la nostra masterclass è sicuramente un argomento un argomento importante la metafora che usiamo spesso è questa cosa del controllo noi confondiamo la complessità del parlare in pubblico e confondiamo con una assenza di di controllo proviamo a immaginare all'evento comunicativo come un qualcosa della qua del quale possiamo avere tantissima conoscenza e quindi tantissimo controllo di alcune parti e molto meno dall'altra l'esempio che facciamo spesso è proviamo immaginare per chi ha la patente di guida a quanto è stato difficile la prima volta che ti sei seduto in macchina e hai provato a guidare una macchina c'erano talmente tante cose da tenere sotto controllo che dici io non ce la farò mai per me il trauma è stato vedere tre pedali e considerare che ho solo due piedi c'è qualcosa che non va in realtà man mano che continui a guidare man mano che ti impratichisci cosa fai prendi possesso di quel mezzo prendi possesso e entri in controllo di che cosa? di tutto ciò che di quel mezzo puoi controllare sapendo che c'è tutta una parte dell'esperienza di guida che non puoi controllare che sono gli altri che è il traffico per questo le prime guide le fai nel parcheggio dove non c'è nessuno ma l'idea della comunicazione è proprio questa mi concentro l'invito che noi facciamo è concentrati su tutto ciò che puoi controllare scrivilo bene quel discorso provalo provalo tanto scegli i gesti scegli con cura le slide in maniera che tu possa stare nell'imprevisto nel nel dialogo con le persone non lo puoi sapere se dopo cinque minuti tutta la prima fila si è addormentata avere in controllo tutto quello che puoi controllare ti permette di stare lì in dialogo con chi in quel momento magari si è annoiato e si sta e si sta addormentando e questa cosa impatta sull'emozione impatta su quella agitazione lì avere contezza avere orientamento nel dove sei ti permette di stare in relazione con quelle emozioni lì e giocarci farci amicizia come si dice stanno arrivando delle delle domande grazie anna per il complimento potrebbe gentilmente dire qualcosa rispetto all'uso dei supporti visivi mannaggia qui ci vuole un mese di masterclass le slide grazie per per la domanda perché è un argomento che a me diverte molto anche perché io non sono personalmente uso alla all'utilizzo di slide ma è un tema sono perfettamente consapevole che sia un temone lo mettiamo in tutto il resto chi si trova a parlare a un pubblico specialmente online specialmente in meeting spesso nasconde completamente la sua faccia ed è completamente nascosto dietro a slide perché sta presentando le slide provo a dire due cose suggerisco una lettura meravigliosa che è slide ology di nancy duarte che è questa persona che ha fatto della delle presentazioni visuali veramente un'arte veramente un luogo di studio enorme dico un po di cose sulle slide occhio a non trasformarti nel presentatore di slide un talk particolarmente noioso è quello in cui vediamo il relatore che semplicemente legge delle slide a me viene da dire in maniera un po cinica mandamele me le leggo per i fatti miei se tu non aggiungi niente immaginiamo i supporti visivi come li chiama giustamente Anna dei supporti qualche cosa che mi aiuta ad amplificare quello che sto dicendo non che lo sostituisce sicuramente un utilizzo errato che facciamo dei supporti visivi è quando li usiamo come suggeritori allora mi faccio prima le slide così anche nel discorso lungo vado avanti e mi ricordo cos'è che devo dire quella cosa lì si vede si vede tantissimo perché c'è di base un errore di timing io devo dire una cosa e poi far arrivare la slide non posso far anticipare quello che sto dicendo a una slide e poi corrergli dietro questa cosa crea una una sincronia tendenzialmente un po fastidiosa a meno che tu non sia Enrico Ghezzi e non siamo su Rai 3 negli anni 90 e parli fuori sincrono ma questo è un altro è un altro mondo tendenzialmente il consiglio è che la slide abbia pochi concetti uno solo scritto grosso e delle immagini evocative e che tu quando parli sulla slide amplifichi quel messaggio che c'è che c'è lì dentro hai bisogno di far una slide con tanti contenuti perché hai bisogno di far vedere tutti i contenuti insieme consiglio falli apparire una per volta questo proprio molto in sintesi Nancy Duarte mi odierà per questa cosa perché ho detto ho fatto la ricettina in pochi minuti è veramente un temone un temone evitiamo come la peste le slide con i muri di testo diventano delle scenografie e rischiano di distrarre le persone da noi che stiamo parlando devono essere un qualcosa che permetta alle persone di ascoltarci meglio e non distrarle dal da noi in mezzo potrebbe ripetere il nome dell'autrice ma io faccio questa cosa tecnologica la scrivo addirittura se riesco nella chat si chiama Nancy Duarte non sono stato troppo presuntuoso non riesco a scrivere qua nella chat forse qualcuno mi sta aiutando come si dice dalla regia e c'è questa fondazione e questa azienda che si occupa solo proprio di di slide e di presentazioni grazie mille a scuola holden che nominiamo per essere assolutamente accogliente e attenta anche a mettere sul web dei contenuti di di valore contenuti che nella in questo tempo possono essere letti come come importanti in questo non metto presunzione presunzione mia ma ringrazio proprio per questa per questa opportunità che ora si è fatta dicevamo dell'emozione dicevamo delle slide forse una cosa interessante sempre rispetto al tema visual che potremmo affrontare se faccio vedere cogliendo questo questo stimolo di Anna è se non ho le slide posso far vedere qualcosa in alternativa io lo consiglio li chiamiamo props avere qualche cosa di concreto chiaramente è diverso se siamo di fronte a 2000 persone o se siamo di fronte a 15 persone ma un oggetto che faccia vedere ciò di cui sto parlando che lo rappresenti che sia magari da stimolo che sia che che fornisca un illuminazione rispetto a quello che che sto dicendo è sicuramente molto di impatto un oggetto chiaramente se sto parlando di un progetto concreto e ho un plastico che lo dimostra è evidente come sia interessante averlo concretamente ma anche un piccolo oggetto uno dei più famosi quindi tetto parte da una provocazione ecco magari possiamo chiudere con questo racconto qua c'è questo tetto che vi invito a cercare che spiega come legarsi le scarpe è un tetto molto vecchio per cui anche come immagini si vede che è datato non ha quella iconografia tipica dei ted che si è poi sviluppata negli anni a venire c'è questo signore dura poco pochi minuti dura 3 4 minuti lui arriva e ha questo inizio questo inizio folgorante ricordate quando dicevamo di pensare all'inizio lui dice io ho molta stima del pubblico di ted perché è un pubblico curioso e se non ricordo cosa dica è un pubblico acculturato sempre pronto ma ho ragione di credere che la maggior parte di voi non sappia come legarsi correttamente le scarpe bam inizio fulminante se inizi così io ti starò ad ascoltare quantomeno per per curiosità o per dimostrarti che hai detto una stupidaggine come non so legarmi le scarpe e poi prosegue e tira fuori una scarpa rispetto ai visual e passa tutto il tempo chiaramente lì essendo la scarpa una cosa molto piccola avendo davanti un pubblico molto numeroso lì è aiutato da una piccola telecamera che inquadra nel dettaglio la scarpa e lui che continua a legare e slegare queste scarpe e la proietta è chiaro che se io sono di fronte a 2000 persone e arrivo con i laccetti delle scarpe nessuno li vedrà anzi rischio di far salire il nervoso a chi mi sta ascoltando per questo dicevamo delle dimensioni e lui cosa fa? spiega facendo vedere un giro da fare attorno al nodo della scarpa che rende il nodo della scarpa non solo più solido e quindi scarpe che non si slacciano ma anche più elegante perché rimane perpendicolare alla direzione della scarpa e non è quel nodo girato dopo quella sfida lì lui dice io mi sono trovato in questa difficoltà io pensavo arrivato a 50 anni questa cosa del legarsi le scarpe di averla archiviata e invece mi hanno regato delle scarpe con dei lacci che non si legavano e quindi sono andato in crisi e ci racconta questa cosa qua e voi direte ma devo sprecare un tetto per dire come legarsi le scarpe? la questione è che il suo messaggio è tutt'altro e torniamo al discorso che facevamo prima della scelta lui ti sfida ti fa ridere perché è buffo vedere questo signore che per tre minuti lega e slega le scarpe e ti dimostra come mettere i lacci delle scarpe ma poi il finale sta dicendo quello che veramente voleva dire e quel messaggio lì poteva dirlo con una lezione di stampo universitario di 45 minuti poteva dirlo facendo degli schemi, poteva dirlo facendo il filosofo decide di partire da un esempio concreto con una scarpa in mano con dei lacci bianchi pure brutti sfidando le persone per poi arrivare a dire in pochissimi secondi quello che era il suo messaggio questo è un esempio di talk perfetto senza slide, con dei props, con un inizio forte, un finale netto e poi lui fa un post finale in cui denuncia tutta la sua nerditudine perché saluta come salutava il dottor Spock in Star Trek e con questo io saluto voi